Si è tenuto a Catanzaro l'incontro in prefettura tra i rappresentanti di diverse sigle sindacali e il prefetto Enrico Ricci. Si è discusso del possibile accantonamento dell'emendamento contenuto nel decreto legge 1000 proroghe che prevede la contrattualizzazione a 18 ore per 18 mesi dei tirocinanti. Allora in questi si segna, abbiamo a Roma la discussione della conversione in legge del decreto 1000 proroghe e quindi in questa discussione si inserisce un emendamento che è quello che noi stiamo sostenendo che porterebbe alla contrattualizzazione per 18 mesi a 18 ore settimanali dei tirocinanti che sono circa 4000 persone che lavorano negli enti pubblici. Abbiamo voluto rappresentare oggi al prefetto la nostra ulteriore preoccupazione rispetto a questa vertenza che conoscono tutti, la conoscono dal comune, alla regione, al governo quindi abbiamo voluto puntualizzare la necessità di un impegno ulteriore da parte dell'istituzione. Siamo questa sera qui nuovamente in prefettura Catanzaro ringraziamo innanzitutto il prefetto per averci ascoltato ma era doveroso da parte nostra rendicontare rispetto a un'avvertenza che purtroppo ancora non ha risposto. Abbiamo deciso di arrivare a un giorno utile per tutti quanti invitiamo tutti i tirocinanti a partecipare anche chi non l'ha mai fatto perché su 4000 tirocinanti sono pochi i lottatori che sono visti in questi anni facciamo un appello unico a tutte e quattro le organizzazioni sindacali per far sì che quello sia un giorno nevralgico.